Benvenuti, il caro Brombe diceva a Porto Tolle l'unica cosa che potevamo fare è imbottigliare la nebbia Bene, io, non sono i ragazzi vostri che sono, imbottiglierò la nebbia Abbiamo una semplicissima bottiglia, vi ricordiamo che in questo programma ci sono dei contenuti a fine di pubblicità Una bottiglietta della San Benedetto Questa è stata fatta È stata fatta, un attimo ve lo dico subito Un attimo Questa è stata fatta È stata fatta da mani esperte Questa è stata fatta principale in un posto abbastanza particolare San Benedetto del tutto Adesso inizieremo una corsa contro il tempo per imbottigliare la nebbia Sto scherzando, ho imbottigliato la nebbia Questo pezzo di storia, a dire poco di storia Lo potete trovare su Mediashopping a 2,50 euro con un tappo in regalo nel caso si rompa E in più è molto interessante A voi vi ho detto a casa Amore cosa mi hai portato? Un anello? No, la nebbia Per voi è tutto L'imbottigliatore di nebbia ufficiale della Nazionale di Calcio Arrivederci